Ciao a tutti, come si comporta un uomo quando ama una donna? Ecco i tre segnali principali. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo l'appuntamento con il mio primo seminario online, devi andare sul canale Felicità Benessere, seminario online martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23 e devi abbonarti a seminari online sul canale, sul mio canale Felicità Benessere. Ti lascio il link qua sotto comunque. Ora, nel percorso di crescita personale per una donna è importante anche capire se un uomo la ama o no per evitare di investire, di essere diciamo coinvolta con l'uomo sbagliato, con le persone sbagliate. Quindi questo è un fatto molto importante per una donna nella sua crescita personale. Allora, quindi come fa a capire, come capire se un uomo è innamorato? Come si comporta un uomo innamorato? Intanto, primo, cioè in generale diciamo così, devi tenere conto che lo capisci dai comportamenti e non da quello che ti dice. Quello che ti dice non conta niente, se ti dice che ti ama non conta assolutamente nulla. Devi vedere i comportamenti. Allora, primo comportamento che ti fa capire che un uomo è innamorato di te è che investe su di te. E noi investiamo. L'uomo quando è innamorato investe in un progetto a lungo termine. E che cosa investe? Beh, intanto investe energie, investe danaro per magari realizzare qualcosa con te. Investe il suo tempo. Però questa è la cosa fondamentale. Investe su di te. Secondo comportamento fondamentale che ha un uomo, diciamo così, quando è innamorato, presta attenzione ai tuoi bisogni. Cioè non è che se ne fotte di quelle che sono le tue esigenze. È un uomo attento. Cerca di capire quali sono le tue esigenze in qualche modo, no? E di soddisfarle. Anche talvolta andando contro quelle che sono le sue esigenze. Diciamo che quando un uomo ti ama veramente, nell'amore, si invertono i codici di piacere e sofferenza. Cioè quello che trovava disdicevole fare quando non era coinvolto, trova normale farlo. Quando è coinvolto, quando è innamorato, anzi, gli piace pure farlo. Ecco, questo è importantissimo. Terza cosa che in modo equilibrato però, diciamo, teme di perderti. Quindi si interessa, ti cerca. Cioè non è geloso perché la gelosia non è amore. Però, diciamo, quel pizzico di timore di perderti per cui dà attenzioni a te. Dà attenzioni e vedi, e tu puoi fare un test, vedi che quando ti allontani comunque tende a cercarti, tende a riavvicinarsi. Un po' come una molla, no? Tu ti sposti e lui ti insegue di qua, ti sposti di qua. Ecco, quindi c'è questa cosa qua, no? Tende a inseguire, tende a inseguire e a starti vicino, fondamentalmente. Ecco, questi sono i tre comportamenti principali che metti in atto un uomo quando è innamorato, che puoi cogliere. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al mio seminario online, al primo seminario online che farò sul canale Felicità Benessere. Basta che ti abboni al canale Felicità Benessere e poi il seminario durerà ancora un mese, comunque resterà un mese online. Basta andare sul canale Felicità Benessere, ti racionico sottostante e il seminario sarà su Seduzione e Innamore, martedì 31 marzo, dalle 20.30 alle 23.00. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!